Guerrignari, M.T. Ayers, una puntata diversa dal solito. Andremo infatti alla scoperta della parola Ambaradan. Preparatevi a questo tuffo nella storia italiana. Partiamo! Prima di tutto, perché voglio parlare di una parola italiana come Ambaradan? Perché la lingua spesso nasconde storie interessanti, tutte da scoprire, di cui spesso nemmeno si conosce l'esistenza e infatti questo è uno di quei casi in cui una parola sola si porta dietro un peso storico non da poco e di cui l'Italia non dovrebbe andare così fiera. Ma come sempre andiamo con ordine e non precipitiamo subito le conclusioni. Scopriamo un poco alla volta questa parola italiana, vecchia di quasi 90 anni. Ah giusto, questo video è nato dalla mia maledetta curiosità dopo che ho usato Ambaradan in un recente video e mi è nata la curiosità di capire perché significasse proprio caos, confusione, barahonda, guazzabuglio legato a luoghi, ambienti e comportamento di persone. Oltre a questo la Treccani la lega anche ad attività complesse che richiedono impegno e capacità organizzative per essere risolte. Insomma la parola Ambaradan è come una matrioska e racchiude in sé tante sfaccettature diverse, ma ben delineate che ne permettono un uso specifico in situazioni veramente al limite dove le altre parole non sarebbero altrettanto incisive. La parola Ambaradan alla fine è una crasi di due parole o meglio del nome di un luogo situato in Etiopia. Mi riferisco al monte Ambaradan, luogo di una battaglia del regio esercito italico. Quindi prima c'è stata l'unione in Ambaradan e poi con l'uso volgare la parola è diventata con la N finale al posto della M. Difatti io sono abituato a dire Ambaradan. Altro ennesimo esempio di come io in realtà sia vecchio e allora datemela sta pensione dai! Adesso è giunto senza dubbiamente il momento di parlare di storia. Quella storia legata all'epoca coloniale fascista, la S è stata volutamente rimossa. Siamo quindi nel 36 esattamente nel febbraio e quindi impegna campagna coloniale con il reggio esercito che procedeva verso sud per arrivare ad Addis Abeba per poter annettere anche l'Etiopia e le sue risorse ai possedimenti del regno. Spoiler! L'Italia ha vinto! Ma il problema è come? Parto dai numeri, da parte etiope abbiamo circa 80.000 uomini, una ventina di cannoni e circa 400 mitragliatrici, oltre che la conoscenza del territorio. Da parte italiana abbiamo 70.000 uomini, quasi 300 cannoni e 5.000 mitragliatrici, oltre che 170 aerei. Una netta differenza di strutture e addestramento che però non giustifica la netta differenza tra le perdite, circa 800 quelle italiane, mentre 6.000 e più 12.000 feriti quelle etiope. Ma cosa successe in quella battaglia per meritare la nascita di una parola nella nostra lingua? Ebbene il reggio esercito, comandato da Badoglio, decise di coinvolgere tribù locali e non proprio fedeli all'Etiopia, pagandole per portarle dalla nostra parte. Cosa successe però? Che a battaglia iniziate quelle varie tribù cambiarono più volte schieramento, creando diverso caos durante i movimenti e attacchi bellici. Tanto che molti militari non sapevano più letteralmente a chi sparare. Da quella situazione incomprensibile e tragica nasce quindi la parola Ambaradan. Quello che però la parola si porta ancora dietro è quel come l'Italia ha vinto e il come mai tante vittime etiopi. Il tutto è dovuto alla scelta del reggio esercito fascista di usare armi vietate nella fattispecie liprite, un gas velenifero lanciato a bassa quota dagli aerei italiani sulla popolazione sia combattente che no in ritirata dalla zona degli scontri. Oltre a quello i proiettili italiani erano a base di arsina e fosgene, quindi contenenti elementi tossici. Questa combinazione provocava infiammazioni, vescicole e piaghe oltre che distruggere polmoni e le vie oculari. Una lenta agonia in contrasto con la convenzione di Ginevra del 28 sul divieto di usare le armi chimiche. Ma non si finisce qui perché poi sono arrivati anche i lanciafiamme. Negli anni successivi all'occupazione ci sono stati poi tantissimi casi di stupri, esecuzioni sommarie, campi di concentramento e torture. Tutte cose che ancora mi fanno domandare come mai fino all'anno scorso in Etiopia ci fosse ancora l'unica scuola pubblica italiana fuori dal nostro stato. Ma questo è un altro discorso. Giorniamo ai fatti di quella battaglia. L'Italia ha ammesso quel massacro indiscriminato o genocidio, perché la parola ci sta tutta, solo nel 96. Giusto per capire e rendersi conto che il 36 non è il trapassato remoto, Silvio Berlusconi è nato in quell'anno, probabilmente il nostro prossimo futuro presidente della Repubblica, ma pensa un po'. A parte averla tirata volutamente a Silvio Berlusconi, spero che questo video sia stato per voi interessante. Come sempre mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Continuate a commentare come sempre dicendomi la vostra nei commenti e sui miei social. Vi lascio anche qualche link in descrizione per approfondire l'argomento, visto che probabilmente non sono stato così completo e dettagliato. Infine, non sono certo uno storico, ma la storia è affascinante, perché racconta quello che eravamo e quello che potremmo tornare ad essere, se commetteremo ovviamente gli stessi errori. Imparare dal passato e non cancellarlo o sopprimerlo è fondamentale per crescere sia come singolo che come società. Noi ci si vede al prossimo video M.T. Ayers. Ciao!